Ciac si gira, mi tocca fare una cosa con la destra, istintivamente, in realtà poi il Ciac che si usa è questo, è lo smartphone, il dilagante smartphone. Vi volevo però parlare di Ciac si gira. Ciac si gira come manifestazione in Emilia Romagna che spiega tutti gli aspetti dell'audiovisivo, quindi del nostro lavoro. C'è già stata la prima giornata a Bologna e questo sabato e questo lunedì ci sono due eventi a Ravenna incentrati sul turismo che parlano dei luoghi e di tutto il lavoro che ci sta quando si collega un audiovisivo a un luogo da descrivere. Saremo presenti anche noi di OCI ovviamente con un dimostrativo molto interessante di video interattivo. Cosa sono i video interattivi? Sono i video con la sceneggiatura variabile, quindi praticamente una sorta di videogioco con un video reale in cui hai l'utente che sceglie quello che accade al protagonista e abbiamo fatto un dimostrativo ovviamente dedicato alla nostra città di Ravenna. Gli eventi saranno due, uno più istituzionale il sabato mattina in Viale Randi e uno molto interessante anche perché si conclude con un bel aperitivo, trovate i riferimenti qui nel test legato alla news che è presso il nuovo mercato coperto a Ravenna, quindi anche una location veramente carina. Questo nostro lavoro di OCI è molto multidisciplinare perché per ottenere un video con sceneggiatura variabile chiaramente bisogna coinvolgere un regista che ha in mente la storia, un operatore video esperto, ma anche persone giovani che sono sia gli attori che quelli che poi creano l'interattività in maniera informatica. Quindi è un po' anche una bandiera, un simbolo del team OCI che veramente, a parte me che sono veramente over, over the top, è molto orientato alle persone veramente giovani perché sono quelle che danno quella freschezza con il ritmo all'audiovisivo che altrimenti è difficile da realizzare. Vi invito veramente a partecipare perché sarà una bella occasione per conoscersi non solo in audiovisivo ma dal vivo e conoscere un pochino più da vicino il nostro lavoro.